Te ne vedono qualcuna. Eh l'ho preso l'ho preso È anche distrutto Eia? Sì Bella Mica stavo aspettando Allora posso fare un carro carro leggero però è Eh ma devo aspettare molto per farlo 90 di C'è dimmi una cosa ste Che cosa? Cosa è il carburante Ma è di tutte e due? Ah eia? L'ho dato a tutte e due sì Mi aspetto una Di quelle bombardate di Eh Là un carro sopra Eia Spai che lo mando Bella Ok a posto L'hai visto con me il mio carro? Ho visto ho visto Vabbè meglio di niente adesso Però no è molto sì Dai dai Mica sicuro Sicuro di Nicolai Andare di cosa a me la dai Di culo Può essere che stia Può essere che? Che stia facendo carri a manetta Eia Attachiamo il carro Eh la vostra Ok Distrutti ma non male Ok Ne avevano solo uno Gatti La Fumogeni Mu attaccanta Tipo Faccio anche l'ambulanza Così curiamo le truppe Ma chi hai tu Gli inglesi? Gli americani Ah ok Qui c'è un mortaio Caccia carri Ehi Mortaio che prendo subito Volentieri E lo porto dietro Oh e loro Possono prendere Queste ammettragliatrici Hai Truppe base? E io ne ho molte Posso mandarti Ho una ammettragliatrice O un canone anti-car Cioè Può mandarmi Posso farlo paracadutare Ah e perché Cosa c'entrano le mie truppe base? Beh così Lo puoi equipaggiare Ah ok ok Cosa vuoi? Mitraglio o cannone? Cannone Sto rimando vicino le truppe Col mitra A destra C'ho Molte truppe Tipo con le megie La Pronto? Ci sta arrivando il cannone? E dov'è? Beh In alto In alto A destra La non ribelli Ehi E ne hanno molte Ehi Miche quad Hai visto? Vai 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 Ehi Vai attacca Attacca Scetti Mortaio Mortaio Aspetta Che quad Ehi Era promettibile Dopo il fumo Ehi Però Ok guarda Era una buona tattica però era Ehi Ehi Lace di uno in mezzo ste Ho visto Di sorgere in fretta Gatti Ok Mi hai perso Molte Tu Eh un po' Si Mi caccia C'è chi non ne hai Ragazzo Ma ne abbiamo perso molte Amica Dove c'è io io le truppe morte? Eh ne abbiamo perso molte Ho l'ambulanza Se vuoi rifare le truppe Eh ok Basta anche che lì che sulle truppe Mettele a fare il fare Ehi Mica Spacchino i druncuso Minchia E' guerra a mano Minchia Avevo venuto la pelle do Cagazzo Prima Eh bestiale La azione che hanno fatto è stata bestiale Minchia Fumogene Poe truppe Ci sono mitraglie qua da prendere Ste se le vuoi Due Aspetta che stanno attaccando da dietro Ehi Non provo a fare lanciare razzi Vediamo come Falle Ma servirà più che altro per Per i veicoli Comunque ci devono aspettare un altro attacco Eh Ehi Ui vuoi farti carriamanetta Eh Servono Ci le avranno anche loro Ah a proposito Eh non posso Che cosa Le risorse potenziate Ma come la c'ha razzi Guarda Nella base Sta arrivando Ah ehi Sì sì Non mettono troppo vicino Com'è Ma sarà A distanza Sì a distanza Non molti Lascialo lì dove Eh da lì Fa dici Da lì al centro arriva Anche più lontano arriva Ah ok È lungo Su punti Mi supposta Sa pressioni Bene 16 Ne ha Hai curato tutte le truppe Così ma Eh insomma di sì Mando indietro l'ambulanza Ciò posso fare anche Attacchi con le Sturmo E' un aereo Che Stavo ancora con le truppe Tanto ci vuoi Niente Eh stanno preparando L'attacco sicuro Mica Minimo molti carri armati Fanno E infatti bisogna Alla Io mando un altro Cannone qua Qua dietro Tipo E poi Per evitare un'attacca sorpresa Comunque non hai preso Niente il canone Che ti ho messo a destra Mica Non è che lo vedo A destra Dell'ultima bandiera A destra Ah ok L'ho visto Eh ma Il truppo ce l'ho Col mie Col machine gun Ce l'ho Eh non puoi prenderlo Il canone Eh sì Eh Ah ma questo è il mio Aspetta Altrimenti lo prendo io Eh prendi Ah prendilo tu E io Prendilo tu Eh mi piazzo qua Eh sicuro sono molti Mola Molto probabile Mica me lo sento che è unta pressioni Secondo me è crash al gioco Per sicurezza metto Anticarro qua Posiziona bene i cannoni Dritti Mettili Eh sono È uno Ne ho cannone Vabbè Quelli Indico Quelli Guy Ah eh sì sì È dritto È dritto Dice che Ci attaccano frontale Secondo me Nicola sta progettando il contrario Di aggirarci Perché hanno già fallito Una volta frontalmente Eh ma Per passare Se passano Del fianco Li vediamo Che passano Sì però È un attacco sorpresa Comunque Dobbiamo riposizionare Le truppe per quello Eh sì Quello sì C'è Kini Ne hai fatto per caso No No Se ce la fai uno Fallo E lascialo un po' indietro Il carro ti conviene Togliere da lì E mandarlo indietro Anche il cannone Il carro? Perché? Hai un carro vicino alla stella Perché è la cosa Che ti attaccano poi L'altro dove è? Vicino al carro Il cannone Ma l'altro Ma l'altro Ah l'altro carro Sta arrivando Ognun due Ok Ma le truppe sono messe bene Qua? Sì penso di sì La 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 Li hai visti? Eh io Adesso Naga da accanto a denguni Non scio Dici che attaccano da lì? Guarda sicuro Non sono sicuro L'ha fatto Dove lo metto il cecchino? E vicino alle altre truppe in mezzo Per coprire le stelle La fumogene Sicuro Da lì Stai Con carburante Ne abbiamo Ah beh Ho raggiunto il limite di truppe Per quello Innocento Innocento Anche io La l'altro Mi sa che I nemici rilevati dove? Da un altro Ehi a ricognizione Cos'è il respiro profondo Si sentono gli albricadere Stanno per attaccare Sicuro Il problema è dove? No Venga spero che non attacchi La 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 Non arrivare Vai 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 Eh loti Vai attacca 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 Questa è battaglia, che ti è, si arretirai, si? Come sei? Che guardo Arretirsi, doc Minca troppo d'oglio No, abbastanza Minca due contro due è una figata assurda Minca due contro due è un attacco respinto Aspetta che mando l'ambulanza, sei troppo da curare, cura le Minca, c'è quel senso di squadra mortale, tutti attaccati Vabbè, ah, che guardo, che guardo Quei quattro Il lancia missili non usarlo subito E se sei ingegneri, ricapparami il carro Io finisco di costruire, ok, adesso vado a ripararti i carri C'ho questo, il cannone che volevo curare, non so come fare Con ingegneri Allora curamelo tu, da, mo che ci sei lì Intanto il carro è già curato Ea Questo cannone lo metto qua, tipo Così Non so se ho sparato il mio lanciarrazi, bo quella No, mi sa che non spara da solo Mo questo cannone lo uso per cagare il cazzo qua Ma forse non c'è nessuno Fai vedere Se non c'è nessuno lì Prendo il coso di munizione Tanto frontalmente non ce la fanno ad attaccarci Ma comunque Eccolo qua Ma non capisco perché hanno fatto due basi lì, però Forse per non farci avanzare No bieso Mortaio Anche se I te Saccanta Ok, uno distrutto Mica i mortali comunque servono molto la Ea Solo che quando spari te li fa Li vede il nemico dove sono Là, lì dietro di noi Eh, per Fumogene Eh vabbè Distrutto Distrutto? Ah no Eh, non ci sono più però No ci sono, ci sono Adesso distrutto Eh Adesso mando le truppe per prendere il I rifornimenti Vabbè, l'ultimo attacco ce lo dovranno fare, pensa Per forza Stanno arrivando Sopra, sopra, sopra Sopra ci ho pensato io, lascia stare Eia 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 Fumantà gli aerei Eh le razzi ste Le stai usando? Ok Buono, buono, buono Distruggiamo i quei morti che hanno l'or Sì, è finita Oh, ce l'ho preso la stella Mica qua non mi vuoi cattare Eh sì Corri, corri C'è, mica l'avevo visto anch'io Non l'avevo visto Ma che se ne ho fatto Eh, hanno matto tutti Tutti una volta No, i carri dietro, non possono prendere le stelle i carri Eh, lo so, lo so Era per andare a difenderti Capito, capito A volte Comunque le barricate non è funzionato Perché veicoli di Chi è il viola? Daniel Eh, non sono passati Non sono passati, sono fermati Comunque quello del lanciarra sia poi è molto potente Eh, io penso se ne hai due o tre Dice che riattaccano Hanno 14 punti, può essere Eh, ma no, secondo me La, 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 eia Visti Le truppe base però Eh, eia Vabbè, ho di nuovo l'attacco aereo nel caso No, non ce la fanno più ormai Eh Se perdono altre sei truppe È finita Altre quattro truppe Che amore, è arrivata adesso la Antiaereo Non ce ne va Yes Yes Yeah baby Bomba house Comunque ammassicciamo molto, minchia Molto Il coso del fumo è stato epico Da film, bro Eh, con la molse Era possibile molto quando ho Quando ho avuto attaccato Il mamma Andato al secondo attacco Il terzo Col proprio disuverso Sul fumo Pensavamo Di perdere Perché le avevano fatte molto Ti mi chiedo Che Pressione Attaccare frontalmente Ci ha avvantaggiato Quello Abbiamo deciso noi Di andare così Perché ce l'aspettavamo Avevamo tutte le truppe puntate Lì A un certo punto volevo cambiare anche a Stella Andare là in fondo Ne avevate molti là in fondo? No No, nessuno Era vuota Comunque Sesso Virtus Stampe Sub